eccomi qua ragazzi in questo nuovo test modo e sono qui per presentarvi questo fan serie 900 s4 credo dago modding allora avevo detto che non avrebbe più rilasciato mod e avrebbe pensato solamente a carta necroffs e ora mi spunta con questo fan 900 s4 in teoria ha detto che dopo il fan 800 non avrebbe più fatto nulla invece boh cioè non dico niente per il modello mi piace fatto bene tutto quanto non ho mai detto nulla di male sull'erson mode a volte alcune ma ripaccavano un pochettino di dettagli vedi il John Deere 7r che ha fatto presente i difetti che aveva senza tanti problemi senza tanti rogno cercare di nascondere difetti ho semplicemente detto qual era il problema e boh basta poi si metto fuori polemiche e fa un culo e cioè allora vuol dire che rilascerà anche magari serie 700 900 s3 e un arpicemi e poi potrà dire basta non faccio più niente e la vabbè però in questo caso non riesco a capire se lo fa perché boh o perché boh non so cioè non riesco a capire a volte certe persone come fanno le cose e se questo video avrà rogne non me ne frega assolutamente un cazzo e proprio in questi giorni è uscito il fend 6700 di ago quindi come volevo dimostrare sta rilasciando l'ultimo modo su cui ha messo le mani prossimo credo che sarà il 7r sempre soliti 7r che ha fatto solo che saranno sistemati un pochino poi lascerà penso un arpicemi dopo di che non lo so cioè non non so più cosa cavolo farà magari farà come 17r che non farà più niente dopo si metterà a fare ancora modo se no boh cioè non ormai non so più cosa boh non lo so non ho ne ho idea comunque vabbè sono qui di presentarvi questo fend 6900 e vabbè avete fatto molto bene da dire su questo io non dico nulla sono veramente ben fatti quindi non incontro questo questo suo modo di fare le modi fa veramente ottimi dal da farming 2011 che conosco e so che su quello fa moda fatta bene anche solo temari peccano alcune cose qua invece direi che è veramente veramente ottimo dobbiamo avere anche altre versioni allora eccolo qua 930 933 36 39 la principale facciamolo bianco dai ruote potete avere 710 di larghezza e r42 cerchione zavorre c'è l'interno della gomma qua potete avere anche la versione 900 r42 o con zavorre oppure con doppie ruote o i cingoli qua facciamo tutto bianco design standard o con griglie marmite cromate facciamo così e dovrei muoverla eccolo la viso a spuntare eccolo lì vedete questo qua la versione bianca con i cingoli come si chiamano giù giudberg qui c'è anche una ditta italiana che li fa e deve essere la poliuzzi mi pare che sia so che fa cingoli per le trebbie mi pare sia in ferro che in gomma non vorrei sparare una cazzata ma qualcuno mi sa anche dire quali altri produttori di cingoli italiani fanno cioè italiani insomma dei produttori di cingoli italiani ecco fatemi sapere cosa ne sapete voi e se ho sbagliato o no comunque allora innanzitutto c'è l'esterno che è questo che permette il tasto shift che è shift sinistro che sopra contro sinistro premette e viene fuori sollevare il sollevatore anteriore farlo su se non serve ovviamente qua bisogna cavare prima la zavorra cofano si apre il cofano qua la parte di cofano e viene messa di qua anche se vabbè trapassa la gomma perchè la gomma è larga qua vediamo tutto quanto il motore che non è proprio fatto benissimo nel senso che se alla fine non è male dai mi sbagliamo pensavo peggio comunque di solito non è una cosa che guardate sempre queste cose qua non datele a guardare ogni singolo particolare del motore qua però dai è fatto bene qua qui diamo tutto quanto si rimetti nuovo il pannello laterale e voilà altri cittadini esterno avete questo qui la porta apri e chiudi avete la lampeggiante che trova forse mi è dimenticato sul fan 800 qua invece avete vabbè abbassare alzare i lampeggianti qua avete il marchio ago qui e qui tutto per evitare che qualcuno lo possa rubare e farci su una moda a caso il senare d'ingombro se usate gomme gemellate e per il resto non c'è altro né indietro né da questa parte qua passiamo al c interno allora vabbè innanzitutto vabbè la porta questa qui aprite e chiudete con la luce che si apre note che voi la aprite che è qua ecco qui c'è un classico sound esterno interno cioè chiuso chiuso aperto praticamente poi avete il seggiorino del passaggero poi avete vabbè alzare e abbassare il volante questo qua è piegarlo su e giù qua avete accensione e spendimento che funziona solamente se avete l'opzione accensione manuale attivata rappeggianti luci di lavoro posteriori sopra la cabina luci di lavoro anteriori sopra la cabina e luci sul normale qua sul muso vabbè classiche quattro frecce in caso di quasi potete accenderle poi vabbè qua tirare su e giù il volante forse l'ho già detto ma mi sono dimenticato non lo so qua avete alza e abbassa il sollevatore anteriore posso vedere anche qua vedete qui si è abbassata la zavorra poi qua avete il monitor che si può vabbè non potete interagire perché appena cliccate si chiude qua avete il sollevatore posteriore che non è collegato quindi non si abbassa qua avete anche luci che lampeggiano queste opzioni che funzionano solamente se avete la drive control che vedete che ho messo qui qua avete vabbè blocco differenziale dietro blocco differenziale anteriore quindi vuol dire che quando voi tirate il trattore resta non slitta nessuna ruota tutte tirano e questo invece quattro ruota motrici quindi il trattore tira con le quattro ruote con i differenziali bloccati quindi tutte e quattro ruote motrici sono in trazione non è nessuna di quelle slitta qua invece la PTO per magari usarlo all'interno senza stare lì magari e premere touch usate direttamente questo qua vabbè qua poi vabbè avete l'ora del control ecco per la passatrice potete decidere la direzione di marcia tenendo premuto si disattiva per qualche secondo ecco qua si disattiva tutto con l'inversore ecco qua abbiamo il classico portellone posteriore qua si chiude si apre ecco qua poi abbiamo il botola qua superiore poi abbiamo la solita classica cambio di direzione di guida control B sempre contro sinistra più B vi si ruota tutto quanto è un mino tutto il sedile e potete usarla per quanto riguarda il fase addirittura posteriori ed ecco qua apriamo di nuovo control B poi c'è un altro tasto che si chiama control Z cambia gruppi di controllo front axle axle sarebbe il sollevatore anteriore scusate il punto anteriore del trattore premendo i tasti contemporaneamente destro sinistro del mouse potete alzare e abbassare il punto anteriore potete alzare e abbassare le sospensioni anteriore del trattore vedete magari se avete come ho spiegato penso in altri video se voi avete il trattore che non è munito di sollevatore anteriore potete praticamente usare questo sistema qui per poter agganciare le zavorre vedete funziona bene qua vedete anche il preso della stafis ma va bene poi voi premendo il tasto sempre control Z potete anche giocare con gli specchietti nel senso che potete modificare gli specchietti in base alle vostre esigenze lato sinistro potete andare su e giù per orientare a sinistra o a destra lo specchietto poi fate così lo ruotate un pochino giusto per inquadrare magari dietro mentre ecco qua mentre con il destra potete regolare l'altro specchietto vedete lo apro ruoto un attimino lo sposto un fiappio per regolarlo così un po' a caso e poi con la batteria del mouse posso diciamo in teoria regolare entrambi no solo uno ok su e giù per quello di destra sinistra destra per quello di sinistra poi in teoria tutti insieme non fa niente questo qua ok questo qui ok qui posso con la batteria del mouse posso alzare e abbassare la visuale ok disabilita la sospensione della cabina cioè che se io prendo un saltino la cabina si muove tutto quanto mentre faccio così no questo è un conflitto di tasti perché non dovrebbe farlo ecco è un problemino che ho notato anche qua non riesco più a dopo a sistemare la la parte che riguarda la regola no no la radio no ok fa conflitto anche con la radio quindi perfetto se volete sistemare la roba qua dovete per forza premere la radio ho detto di la radio dovete premere la radio se no non funziona eh diciamo che fa un po' conflitto magari con alcuni tasti ma va bene quindi per il resto allora gli specchietti non potete regolarli proprio come volete prima mettete il con proprio forza e il mezzo perché ho chiesto ad ago mi fa no non ha senso li mette fare un tasto per risistemare gli specchietti li lascio così com'è e amen non ha senso va bene qua avete va bene il joystick che si può muovere avanti e indietro se neanche sullo riquadro che direzione avete avanti e indietro giri motore km orari ore di lavoro e lì in basso qui avete praticamente questo qui è lo slittamento delle gomme questi invece sono i consumi l'interiore questo invece è non lo so non ho idea niente io vado in campo preparando questo maschio Dracula di gaming evolve diciamo in campo per far vedere un pochettino come si comporta con la modelistica e la drive control eccomi qui arrivati in campo adesso la pressione delle gomme funziona si vede che io non ho selezionato il trattore seppremmo Y e mi si sgonfano a ruote fino a 0,60 bar la diminuzione della pressione serve per evitare di combattere troppo il terreno in caso abbiate mai un terreno soffice volete evitare di pestarlo troppo per poi magari avere problemi quando vorrete disseminare vi trovate il terreno un po' troppo compatto e rischiate di avere un raccolto pietoso e magari avere anche difficoltà nel far gemolare le piante e tutto quanto su qua vedete si sta sgonfiando piano piano vedete le gomme stanno diventando flush e sinceramente è una cosa che a me piace dà un tocco di realismo in più alle mod ecco qui su farm vedi una cosa simile magari forse non lo so 19 non lo so magari forse nel prossimo farming c'era questa opzione qui vedete infatti le gomme sono belle sgonfie adesso caliamo il nostro attrezzo e vedete che vabbè il grip sale al 10 10% i litri ora sono 68 vedete senza problemi anche perchè un attrezzo diciamo piccolo mi pare sia per 250 cavalli se non ricordo male un attimo che controllo dovrebbe essere il maschio Dracula 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 è 250 cavalli si quindi diciamo che è piccolino per questo fend qua però vedete che lo stesso fa un po' di fatica all'inizio a tirarlo vedete infatti è dato il 12% dopo di che cala al 9 niente l'unico problema di questo modo qui è che per poterlo usare al meglio dovete usare la per forza dovete usare la cosa la moralistic e la drive control drive control no però ovviamente la cosa di quanti le indicazioni warning manca la drive control potete usare la mod ma va bene funziona lo stesso solo che fa un po' fastidio avere quella scritta rossa sullo schermo per il resto poi il trattore traballa perchè non avendo la moralistic quindi sono sballati e tutte le cose insomma un po' un casino se avessi fatto due versioni è stato molto molto più comodo ma vabbè va bene allora come sempre trovate il link in descrizione del Fendon 900 un link da modoster poi trovate la pagina facebook di ago poi trovate vabbè le zavorre e il prossimo puntato vado a ripresentarvi il 6700 e altre robe che devo trovare in giro cioè ho in mente ripresentare solo che non riesco mai a farlo niente alla prossima c'è un prossimo test mode e ciao ciao